Salve a tutti, io mi chiamo Giovanna Campagnolo, io sono Marta Brotto e siamo due interpreti di conferenza e traduttrici. Abbiamo uno studio, abbiamo avviato un'attività insieme da un anno, offriamo servizi linguistici. Nello specifico ci occupiamo di servizi di interpretariato che è il nostro core business, traduzioni e anche corsi di lingua occasionalmente. Il motivo per cui ci siamo rivolte a Gemma e Samantha e quindi a Business for Ladies è perché volevamo migliorare un po' i nostri aspetti organizzativi e gestionali. Come tutti i professionisti sappiamo tutti fare bene il nostro mestiere, però per quello che riguarda la parte gestionale a volte si viene un po' meno. Quindi in questo percorso abbiamo imparato come pianificare la nostra attività di anno in anno con degli obiettivi da raggiungere, abbiamo imparato a gestire meglio il nostro tempo, a comunicare meglio ciò che facciamo e anche a monitorare gli aspetti finanziari che alla fine sono fondamentali per capire se un'attività sta funzionando o meno. Dal mio punto di vista personalmente il risultato più impattante è stato imparare a gestire il tempo. Tendevo a lasciarmi trascinare dagli eventi, invece adesso ho imparato a stabilire delle priorità giornaliere che da soddisfare in tutti i modi, a tutti i costi, pur insomma nelle emergenze e negli imprevisti. Quindi è un corso che ci sentiamo di consigliare per i professionisti che come noi appunto hanno riscontrato questo tipo di problematica. anche dal mio punto di vista devo dire che il corso è stato molto utile perché anch'io ho imparato sicuramente a gestire meglio il mio tempo, a dare un valore diverso al tempo e questo quindi mi ha veramente aiutato ad ottimizzarlo. E poi sono riuscita anche ad avere una panoramica più ampia e completa di tutte le attività, i campi di attività attorno a cui ruota poi la nostra attività stessa che non si limita quindi solamente al lavoro sul campo, quindi di interpretariato e traduzione, ma è coronata da moltissime altre attività che vanno svolte per riuscire a dare al proprio cliente un servizio completo e professionale. Un altro aspetto che secondo me è stato significativo è la parte di comunicazione che al giorno d'oggi sta acquisendo sempre maggiore importanza. Quindi sapere, capire come comunicare al meglio ciò che ci fa, ciò che si fa, è sicuramente un plus che permette di raggiungere molte più persone. Quindi insomma, in sostanza questo, fatelo perché è un corso molto utile nel quale si entra in contatto anche con molti altri professionisti e quindi oltre ad imparare tutto quello che ci siamo detti anche un momento di scambio, di condivisione di problematiche comuni che contribuiscono comunque a questo scambio, contribuisce a trovare una soluzione. Gemma e Samantha hanno un approccio molto molto dinamico e questo aiuta perché dà veramente un'elezione di energia e quindi anch'io vi consiglio di farlo, sono una barra due giornate da cui si rientra veramente con un nuovo slancio. Fatelo! Fate il corso di Business for Ladies! ato. Grazie a tutti.